Salve ragazzi, oggi siamo venuti alla pizzeria Gournè da Giano. Ok ragazzi, ci siamo. Allora, come svolgimento del video, io vi ho messo le foto di quello che praticamente ci siamo mangiati. Dopodiché, ragazzi, adesso ho attaccato a riregistrare con il mio microfono, che ora non si vede ma affidatecelo qua. E niente, ragazzi, allora, che vi devo dire, il video è finito qua, spero che vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, lasciatemi un bel pollicione in su, commentatemi sotto nei commenti, ditemi sotto nei commenti che cosa ne pensate anche voi di questa cosa. E niente, e noi, vi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi il suo nuovo video che uscirà poi sul canale. E noi ci ribecchiamo al prossimo video dal vostro Zabbaione. Ovviamente, ragazzi, vi dico che questo video qua uscirà solo dopo, alla fine, dopo il primo video che avete visto, che avete già visto. Ciao ragazzi!